Ormai la bambina è cresciuta, è diventata una donna, però le problematiche rimangono. Da bambina c'erano molti problemi legati al plurito causato dall'ezema e quindi c'erano aspetti molto gravi nella vita sociale. Durante l'adolescenza in particolare è stata una sofferenza unica perché immaginate una bambina, una ragazza di 15 anni con il volto coperto dai segni dell'ezema. È veramente un problema molto serio. Diciamo che l'aspetto migliore è stato l'aver imparato a convivere con la patologia che purtroppo non ha una cura definitiva, ha soltanto delle cure palliative. Si possono effettuare dei trattamenti, la pelle, le creme. È comunque un problema che persiste, non ha nessun tipo di remissione, salvo che in certi periodi particolarmente favorevoli è un po' meno incisivo che in altri. Crescendo alcune manifestazioni si riducono, ma resta il problema. La dermatite inoltre è legata a altre patologie, allergie alimentari, che quindi aumentano la complicazione della vita di queste persone, che non solo non possono mangiare qualunque cosa come gli altri, ma devono anche sottostare a questo, chiamiamolo peso, di non essere sempre perfettamente presentabili, perché sul piano estetico è una malattia che porta molti problemi. e quindi oltre alla patologia in senso medico ci sono molti aspetti di tipo psicologico nell'affrontare la vita in comune con gli altri.